Mettiamo il caso che voi siete ricchi, ok? Che avete l'opportunità di spendere una cifra importante. Parliamo di 2000€ per un PC. Quale sarebbe la configurazione che potrebbe essere in questo momento giusta su questo tipo di budget? Lo vediamo insieme in questo video, ma trattandosi di una configurazione dovrete poi metterci anche Windows, quindi vi dico io dove comprare Windows. Ma prima ragazzi, spazio al nostro sponsor, che ormai da diversi mesi è Wookies. Wookies è la piattaforma più affidabile per l'acquisto delle vostre chiavi di Windows. Il sito infatti vi mette a disposizione chiavi OEM, ovvero delle chiavi che potete riutilizzare ogni volta che formattate il vostro PC. All'interno del sito potete trovare Windows 11, chiavi di Windows 10 in tutte le versioni Home e Pro, con cui potrete fare anche eventualmente l'aggiornamento, oppure chiavi di Office e tanto altro. Questo mese, tra l'altro, grazie alla promozione Back to School, si parte da un prezzo veramente vantaggioso, che è di 13,89€ per Windows 10 e di 20,56€ per Windows 11. Cosa stai aspettando quindi? Codice sconto MHD in descrizione, acquisto sicuro tramite PayPal, la chiave vi arriva in pochi minuti tramite email e vi basterà semplicemente inserirla nel vostro Windows ed il gioco è fatto. Ciao ragazzi, bentornati, bentornati in un nuovo video, bentornati su MV Hardware. Se non conoscete il mio canale, iscrivetevi, che cosa state aspettando, mi date una grossa mano. Giù in descrizione è il link per seguirmi, tra cui anche i canali Telegram delle offerte, dove spesso e volentieri i componenti del genere vanno in sconto. Vi dico la verità, la sincera verità. Ero indeciso su quale piattaforma scegliere per un PC da 2.000€, perché fondamentalmente la maggior parte delle persone potrebbero credere e pensare che sarebbe meglio andare su AMD. Ed effettivamente è stato così, cioè sono andato su AMD, AM5, perché in questo momento effettivamente rappresenta la piattaforma un po' più nuova che possiamo andarci a prendere. Ma su queste cifre, fondamentalmente, chi può spendere 2.000€ e magari oggi si vuole prendere un PC bello potente con un processore importante, no? Mettiamo, non lo so, un 13.700K o anche un 13.900K, lo può fare. Perché se spende 2.000€ oggi, magari fra sei mesi, un anno, il problema di cambiare scheda madre o processore non se lo fa più di tanto. Ciò detto, sono andato su una piattaforma AM5 perché, come vi dicevo, reputo in questo momento più conveniente su queste fasce andare ad investire qualcosa su AMD, che, tra l'altro, ha tirato fuori i nuovi driver con le nuove versioni di Agesa e quindi i nuovi BIOS, perdonatemi, non i nuovi driver. E si sono anche risolti un po' di problemi sulle RAM, ma vedremo poi nel dettaglio in un video dedicato. Il processore che su questa fascia 2.000€ ci sta benissimo è il 7.700X, ma ultimamente non lo trovo a prezzi decenti, stranamente è salito di prezzo e quindi ho inserito sulla fascia delle 350€ su Amazon c'è il 7.700, ma se cercate su altri shop potete recuperare un 7.700X per lo stesso prezzo, quindi andate sul 7.700X se lo riuscite a trovare. Come scheda madre, invece, è una buona scheda madre B650, una MSI Tomahawk, che regge tranquillamente il nostro 7.700X, ha dei buoni VRM, DDR5 ovviamente, e supporta anche Wi-Fi 6E, boost sulle memorie che dovrebbero andare anche oltre le 6.400MHz, ma, diciamo, sulle 6.600MHz stiamo tranquilli su questa piattaforma per adesso. Quindi ci sono anche altre schede madri, visto che molte persone mi dicono che poi io consiglio solo Asus, ce ne sono un po' sulla fascia delle 200€, anche le Asrock, le Asus sicuramente si trovano. Questa, secondo me, rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come RAM io sono andato sulle 6.000MHz CL30 rigorosamente Expo, perché magari preferisco in questo momento, visto che non c'è tutto questo vantaggio dal punto di vista delle frequenze elevatissime, lasciare comunque delle frequenze piuttosto safe, ma andare su delle latenze più basse, queste RAM sono ottime, non sono i migliori chip in circolazione, però 140€ per delle Expo CL30, se no andate sulle classiche CL36 che costano qualcosina in meno, le recuperate a poco più di 100€ probabilmente. E il reparto storage potete tranquillamente o andare su un NVMe da 2TB sicuramente, perché con il budget ci siamo, quindi conviene prendere un 2TB e sicuramente un Gen 4. In questo caso io ho inserito il Crucial P5 Plus, potete risparmiare qualcosa andandovi a prendere qualche Gen 4 con prestazioni inferiori o anche un Gen 3, ma secondo me non c'è bisogno di andare a risparmiare su un SSD, prendete un SSD Gen 4 decente, chi ha preso gli SK Enix sta ancora ridendo, e come dissipatore andiamo su un 360, anche se forse il 360 anche overkill su un 7700X, però noi ci sta bene perché costa decentemente il Thermalright Frozen 83€, ci sta una bomba. Mentre per quanto riguarda il case, a me piace lo stile di case classico, quindi con immissione frontale e radiatore sul top, il Fandex Eclipse G36A secondo me è un ottimo case per il costo che è 89€, ci sono una marea di case, ci sono i case col vetro davanti e con air flow verticale, ognuno sceglie poi il case che piace secondo i gusti personali, basta che vi mantenete nei dintorni dei 100€, non andate a spendere proprio troppi soldi per il case perché alla fine è una build abbastanza tranquilla. Come alimentatore invece dovete prendere, potete prendere un RM850E del modello 2023, che per esempio in questo caso è incluso un adattatore 12VH Power nel caso in cui volete prendere un Nvidia, non all'attacco diretto 12VH Power, però è un Corsair, su questa fascia di prezzo 130-140€ si trovano un po' tanti alimentatori, principalmente sono tutti gold, con buon equipaggiamento di condensatore e cose varie, c'è anche l'MSI che ha invece l'uscita diretta 12VH Power direttamente sul connettore APSU, che anche è un'alternativa valida, c'è anche qualche decina di euro in più l'Asus ROG, quindi 130-150€ prendete maggiormente ottimi alimentatori. Come scheda video andiamo un attimo nella nota dolente, perché se vi ricordate nel video, diciamo, del punto della situazione di AMD, avevo ricriminato fondamentalmente il fatto che AMD attualmente ha poco da offrire come tecnologie e cose varie, tranne che su alcuni modelli top di gamma come 7900XT e 7900XTX, che sebbene non hanno le tecnologie hanno tanta potenza in raster con tanti giga. In questa build ho inserito la 7900XT, perché a 850€ vi fa giocare e vi fa giocare bene, e anche i suoi, diciamo, risultati in RT non sono proprio male, perché queste sono delle schede molto potenti, consumano anche un po', però in questa versione, la XFX Speedster, che io ho montato in varie occasioni in una serie di PC, è sicuramente la miglior scheda in questo momento per quanto riguarda la rasterizzazione pura e per quanto riguarda il competitive, quindi persone che vogliono una macchina potente per giocare a giochi competitivi. E potete giocare anche ai AAA, purtroppo facendo qualche compromesso, soprattutto a risoluzioni elevate, con l'FSR, ma se siete interessati più a quell'aspetto e non ve ne frega di giocare in rasterizzazione a 1000FPS, l'alternativa è la 4070Ti, che costa forse in qualcosina in più, perde in rasterizzazione pura, quindi ha delle performance in meno, ma nemmeno poi tanto, però guadagna sicuramente in ray tracing e col DLSS 3, con questa scheda, voi potete giocare tranquillamente su monitor, anche ultrawide, 1440p, cose del genere. Non ha in questo momento un posizionamento di mercato che a me fa impazzire la 4070Ti, sono sincero, perché rispetto alle altre Nvidia dalla 4070 a scendere, i prezzi si stanno modificando, la 4070Ti è probabilmente l'unica scheda che, a parte i primi giorni che fu sparata a 1200€, la troviamo comunque ormai stabile sulle 900€, tra le 850 e le 900€. Qualche volta su Amazon si trova qualche modello di seconda mano, quindi usato Warehouse, anche sotto le 700€, e in quel caso, forse anche di meno, potrebbe essere un bel affare. Ma per chi in questo momento punta a giocare a IAAA con il DLSS su dei monitor ad alte risoluzioni o ad alti refresh, sfruttando tutte le tecnologie, Nvidia, Nvidia, DLSS, RTIO, tutto quello che volete, sicuramente la 4070Ti sulla fascia del 2000€ di PC è un'ottima soluzione. Azzardo che probabilmente chi magari vuole Nvidia farebbe meglio forse a investire quei 200€ in più ed andare direttamente su una 4080Ti, che secondo me è l'ideale. Cioè, 2000€, questa è una build che se voi andate a vedere mettendoci una gigabyte o comunque una scheda non proprio di top come le TAF o le STRIX, voi con 2000€ vi fate un buon PC. togliendo la 7900XT e mettendoci una 4080, voi andate a spendere quei 2000€-2003, che secondo me è il top PC in questo momento che potete fare a livello di performance, e anche con un 7700 o magari superiore andando poi sugli X3D o su un Intel come il 13700K o simili. Però, l'ideale è questa. Volendo si possono spendere gli stessi soldi con una 4070Ti e non è un errore. Anche se, ripeto, la 4070Ti in questo momento non è posizionata proprio in maniera perfetta sul mercato. Se andasse giù di un centinaio di euro sarebbe l'ideale. Altrimenti, ragazzi, andate direttamente su una 4080Ti, tagliate completamente la testa al toro e lì dominate qualsiasi cosa. Rasterizzazione, RT, DLSS, tecnologie, lì avete tutto. È una scheda che è scesa di prezzo ma si trova sopra le 1150-1200€. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente scrivetemi le vostre idee qui sotto se pensate che qualche componente magari non ci sta. Se voi pensavate di mettere qualche altra cosa, sono bene accette anche le vostre critiche sicuramente. Non è proprio la miglior build, si può sempre fare in maniera diversa, ragazzi. Si può sempre fare di meglio. Oggi magari esce una componente in sconto particolare, domani esce un'occasione. Quindi sono degli esempi per far capire comunque intorno alle 2000€ oggi cosa potete andare a comprare. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Fatemi sapere con un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!